Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui come ogni giorno, ore 16, per parlare insieme di carte Pokémon. Come avrete intuito dalla copertina, oggi andremo a vedere la seconda parte delle carte che ho intenzione di mandare a gradare nei prossimi giorni. Venerdì veniamo già fatte vedere una parte, oggi andremo a vedere l'altra. Prima di cominciare però, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutto quello che succede su questo canale e poi ovviamente come sempre voglio ricordarvi che collaboro con uno store online che si chiama The Poke Hunter Store. È un negozio online dove trovate veramente di tutto per quanto riguarda Pokémon, dagli accessori per le carte e per i vostri prodotti sigillati, bustine comprese, fino ad arrivare a tutto quello che potete spacchettare, lingua giapponese, inglese, italiana, etb, collezioni, minitin, box, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti e vi ricordo che utilizzando il codice PROFETA3 avrete il 3% di sconto su tutti i vostri acquisti. Grazie mille. Detto questo andiamo a cominciare. Come avevate visto nel video di qualche settimana fa, le carte che avevano preso in media, le valutazioni più alte, erano proprio le carte giapponesi. E allora in questo video iniziamo proprio da alcune carte giapponesi. E le prime due che vi faccio vedere sono due carte che se mi seguite già da qualche periodo, diciamo, vi ricorderete sicuramente. Sono i due, Baby Trio, carte molto molto belle, GX alleati, pieni di dettagli, artwork di 0313 con Togepi e gli altri due Baby Pokémon. Molto carino anche il Cleffa in primo piano che tiene la Pokéball in mano e anche più in generale tutto lo sfondo. Questa è una carta davvero davvero molto bella. Sul retro, come potete vedere, come sempre, le carte giapponesi vi garantiscono ottima accentratura, ottima qualità. L'ideale qui sarebbe prendere un 10, poi dovesse essere un 9, va bene lo stesso, però comunque qua mi aspetto un ottimo voto. Queste sono carte che in versione RAW, quindi non gradata, trovate intorno ai 35-36 euro. Occhio adesso perché, come sapete, dal Giappone su qualsiasi carta andata ad acquistare, pagate le tasse, pagate la dogana, quindi comunque le pagherete un po' di più, per fortuna io su queste carte mi ero portato avanti, e quindi ecco le prime due carte di quest'oggi. Restiamo sempre in ambito Baby Trio e vi faccio vedere anche il corrispettivo della carta precedente, ma in versione Full Art. Eccola qua. A me piace più l'altra, però anche questa è una carta molto molto bella, questa è la numero 185 su 137. L'illustrazione qui è di 5-Ban Graphics, che abbiamo già imparato a conoscere nei video precedenti. Carta carina, qualità ottima, centrata bene, anche qua spero almeno in un 9, e quindi diciamo che in questo video vedrete diverse carte giapponesi, proprio per i motivi che vi ho spiegato l'altra volta. Prendiamoci però una pausa dalle carte giapponesi, e vi faccio vedere alcune carte di voltaggio sfolgorante, come questi due Pikachu V-Max. Questa è una carta che trovate ancora a prezzi più che accessibili. Qua vabbè, ve ne faccio vedere una sola, ma comunque sono due. Ovviamente questa carta non è paragonabile al Pikachu Full Art, né al Pikachu V-Max Hyper. È una carta che sta, se non sbaglio, intorno ai 20 euro circa. Ne avevo diverse, ma ne ho selezionate un paio, che mi sembrano le più centrate, le più, diciamo, le migliori, quelle senza difetti o quasi. Sono due carte che al momento, appunto, non dico che vengano sottovalutate, ma sicuramente non hanno molto hype, ma io credo che sul lungo periodo, essendo un Pikachu, essendo un voltaggio sfolgorante, che secondo me resterà uno dei set migliori dell'epoca Spada e Scudo, beh, io credo che questa carta, sul lungo periodo, si possa apprezzare, diciamo, in maniera abbastanza sensibile. Restiamo sempre in ambito di voltaggio sfolgorante, e questa è, come sapete, il Rayquaza Amazing. Ho già mandato due carte a gradare, di questa, del Rayquaza Amazing, una ha preso 8, una ha preso 9, da quello che ho visto con l'8 sostanzialmente rientri della gradazione, mentre col 9 sei già in guadagno, e ovviamente un 10 qua sarebbe tanta tanta roba, anche perché non ho ancora un Rayquaza Amazing gradato 10. Carta molto bella, a me sembra perfettamente centrata, speriamo anche qui di prendere un ottimo voto. Poi ci rispostiamo nel Paese del Sollevante e andiamo a vedere alcuni Pikachu promo. Come sapete, i Pikachu promo, soprattutto quelli del Pokémon Center, sono una delle mie grandi passioni per quanto riguarda il collezionismo di carte Pokémon, e siccome l'ultima spedizione mi ha dato ottimi voti, diciamo, per quanto riguarda questo tipo di carte, ho deciso di mandarne anche altri. Iniziamo dal Pikachu del Pokémon Center, Pikachu che fa surf, carta olografica, è la numero 392 dell'epoca Sun & Moon, sole e luna, l'artwork è di Soitou, molto carina come carta, anche questa spero che prenda almeno un 9. molto molto bella, richiama un po' l'idea del famoso surfing Pikachu, qui ovviamente riproposta in chiave moderna. Carta molto molto bella, di fatti non ne ha, quindi anche qua, ragazzi, speriamo, non vi faccio vedere i back, però sono pressoché tutti perfetti o quasi, ecco. quindi vediamo, dai, speriamo. Poi, questa carta ve l'avevo già fatta vedere l'altra volta, ma siccome ne ho un'altra, ve la faccio rivedere, è il Pikachu del Pokémon Center di Osaka, il Comedian Pikachu, molto molto bella anche questa, una carta che sta riscontrando sempre più pareri positivi, diciamo, nel mondo del collezionismo Pokémon, molto carino anche il fatto che ci sia qui di Miao, vicino a Pikachu, bella. L'artwork è sempre di Saitou, che si è dedicato tanto a questo tipo di carte, e questa è la numero 407 dell'epoca Sole Luna. Poi restiamo sempre in ambito di Pikachu del Pokémon Center, questo è il Pikachu del Pokémon Center di Yokohama, il Pikachu Sailor, Marinaio, Capitano, che avevamo già visto anche l'altra volta, l'artwork di Tsuruta, se non sbaglio, o Saitou Ruta, esatto, è la numero 283 dell'epoca Sole Luna. Poi abbiamo una delle carte più belle, secondo me, di questo lotto, e sto parlando del Pikachu Pokémon Center di Sapporo, la numero 5 dell'epoca Sole Luna, artwork di Kawaiyo, questa ve la faccio vedere anche un po' più da vicino, perché secondo me merita davvero. Allora, come vedete, in primo piano abbiamo Pikachu, in compagnia di altri Pokémon, per cui ad esempio un Vulpix, alcuni dettagli molto molto belli, che richiamano appunto il mondo dei Pokémon, come le Pokéball fatte di neve, il pupazzo di neve a forma di Pikachu. Vedete qui anche nuovamente, c'è Vulpix vicino a Pikachu, nel loghetto del Pokémon Center di Sapporo, e poi da notare come sullo sfondo abbiamo Eevee in compagnia di altri starter, come ad esempio Pip-Bloop, che stanno facendo un altro pupazzo di neve a forma di Pikachu. carta molto molto bella, peccato che non l'abbiano fatto, olografica, però questa è una carta che sicuramente, spero possa prendere un ottimo voto, perché è una carta comunque di valore, che mi piace molto, quindi dovesse prendere un 10, sicuramente la metterei esposta in vetrina, dovesse prendere un 8 o un 9, vediamo un po', poi ci penserò. Molto molto bella anche questa. Poi, questa vado rapido, perché ormai ve l'ho fatta conoscere ampiamente, è ovviamente il Kanazawa Pikachu, una delle carte che hanno avuto un incremento di prezzo maggiore negli ultimi mesi, io questa l'avevo comprata a 15-16 euro dal Giappone, e già adesso in condizioni raw, sta tra i 50 e i 55 euro. Quindi, sicuramente è una carta molto molto buona, gradata 9, questa io ne ho venduta una circa una settimana fa a oltre 75 euro, quindi comunque capite bene che gradando diverse carte ottenete un bel boost su questo tipo di carte. L'artwork è di Fuzi Choco, che è un illustratore che onestamente non conosco, molto molto bella, la carta olografica, vado rapido perché ne abbiamo già parlato ampiamente. Come abbiamo già parlato tante volte del Shibuya Pikachu, appunto la carta del Pokémon Center di Shibuya, anche qui vado rapido perché la conoscete già, c'è il Mewtwo qui sul logo, che impreziosisce ulteriormente questa carta, la carta olografica, è una delle carte secondo me più belle che hanno fatto ultimamente dedicate a Pikachu, è la numero 2, promo 2 SP, che altro aggiungere? Anche questa speriamo che possa prendere almeno un 9. non ho ancora un 10 dello Shibuya, spero di poterlo prendere, mentre ho un Kanazawa 10, che sicuramente andrò a esporre in vetrina. Ritorniamo a Yokohama, anche questa è una carta che avete già imparato a conoscere, quindi anche qua vado abbastanza rapido, mentre invece mi voglio soffermare sulle prossime due carte, in maniera un po' più scrupolosa, perché non le abbiamo ancora viste. La prima, secondo me, è un piccolo grande capolavoro di dettaglio, è la carta del Pokémon Center di Kyoto, come vedete sul logo del Pokémon Center, in questo caso, abbiamo Pikachu a cavallo di O.O. E poi, nella carta, oltre ai due Pikachu in primo piano, da notare i dettagli che hanno a che fare con Pokémon, dalla tazza a forma di Pokéball, fino alla decorazione qui, che potete vedere floreale in testa al Pikachu con abiti femminili, sullo sfondo ci sono un sacco di Pokémon, tra cui ad esempio un bello Slowking, qui, ok, e poi, molto carino, anche questo Suicune, nella parte centrale, e poi da notare come sulla sinistra, oltre ad altri Pokémon, ci siano i ciliegi in fiore. A testimonianza che questa carta, è veramente una carta, che richiama la tradizione giapponese, la cerimonia del tè, una delle tradizioni più antiche, e più importanti, nella cultura giapponese, i ciliegi in fiore, e poi ovviamente, tutti i Pokémon che compongono la scena. Carta, secondo me, questa, veramente molto, molto bella, è la numero 325, dell'epoca Sole e Luna, nuovamente artwork di Saitou, carta che sta già aumentando molto di valore, e quindi, anche qua, speriamo di prendere un ottimo voto. E poi, ragazzi, questa io ve l'avevo già fatta vedere, durante una live, o durante un video, se non sbaglio, parlo ovviamente del, Pikachu Gentleman, Pokémon Center di Tokyo, da notare come sul logo, qui in questo caso, abbiamo, Pikachu e Mew, molto, molto belli, la carta è stupenda, guardate come, sul Tartan, scozzese, alle spalle di Pikachu, ci siano le Poké Ball, all'interno dell'olografia, molto, molto bella, l'altra volta, l'altra sera, durante la live con Poké Norvi, ho detto che mi piacerebbe molto, se in futuro, la Pokémon Company, decidesse di fare, un asset dedicato, ai Pokémon più iconici, o spasso nel tempo, o in giro per il mondo. Ecco, questa è una carta, che, già richiama un po' quell'idea, perché questo, è sostanzialmente, un Pikachu, che ha deciso di andare in Scozia, e che, appunto, si è vestito in abiti tipici di quella cultura. L'artwork è nuovamente di Saitou, a dimostrazione di quanto questo illustratore si sia prodigato, nella realizzazione delle carte di Pikachu, dei Pokémon Center, è la numero 210, questa in edizione RAW, quindi non gradata, ha già superato i 100 euro, anche qui speriamo, almeno, di prendere un 9, sarebbe veramente molto, molto importante. Vedremo. E poi, abbiamo, come ultime carte, un Pikachu, un altro Pikachu promo, è la 124 SP, di Sousou, da notare, qua, i Pikachu, che abbiamo, sullo sfondo, carta, molto carina, anche questa, abbiamo, questa qui, sempre di Saitou, 227, dell'epoca sole e luna, Pikachu, in compagnia di altri Pokémon, Pokémon, olografica, sinonimo di garanzia, molto molto bella, anche questa, ve l'avevo già fatta vedere, quindi vado un po' più rapido, anche questa, ve l'avevo già fatta vedere, quindi vado molto rapido, è la 108, dell'epoca sole e luna, di Tsuruta, mentre invece, sulle ultime tre, mi voglio soffermare, un po' di più. Questa, Pikachu, con la ciambellona in mano, in compagnia di Kubon, e di Upa, sullo sfondo, sempre Saitou, è la numero 200, dell'epoca sole e luna, carta, secondo me, molto bella, olografica, centrata, perfettamente, come tutte le Giappo, ovviamente, su queste, il voto minimo, che spero di prendere, è un 9, uscissero anche, 3, 4, 10, sarei molto, molto soddisfatto, bella, vado avanti, questa, non è olografica, ma, è tanta, tanta roba, è la numero 36, SP, artwork di Chumsoft, oltre a Pikachu, che, eh, occupa, il primo piano della scena, da notare il Bulbasaur, ovviamente, alla sua destra, e soprattutto, la casa dietro, a forma di testa di Pikachu, molto, molto bella questa carta, anche qui ragazzi, speriamo di prendere, un bel voto, e poi, dulcis in fundo, andiamo a finire con, un Pikachu poncho, e qui in particolare, abbiamo un bellissimo, Pikachu roulette, artwork, nuovamente di Saitou, che, è da non confondere con Saito, perché abbiamo, Naoki Saito, che ad esempio, è quello che ha fatto, eh, l'art, ad esempio ha fatto questa qui, ok, questo è Saito, mentre invece Saitou, che è questo, è quello che ha fatto questa, il Pikachu Gentleman, e le altre, che abbiamo visto prima, Kauki Saitou, qui, nuovamente, si supera, molto, molto bella, è, è un Pikachu, del Pokémon Center, di, eh, Toku, e qui abbiamo Rowlet, ci sono tanti, Pikachu poncho, questa forse è quella, che è ancora un prezzo, un po' più abbordabile, ce n'è una molto bella, dedicata a Charizard, che ha già raggiunto, i 150 euro, in edizione RAW, se non, se non ricordo male, in condizioni Nier Mint, questa è una gran bella carta, anche qui ragazzi, speriamo di prendere almeno un 9, in realtà ci sono un paio di carte, di quelle che vi ho fatto vedere, che hanno delle piccolissime imprecisioni, per quanto riguarda il back, però io spero che nella peggiore delle ipotesi, possano prendere un 8, poi tutte le altre, parlando delle Giappo, mi aspetto un 9 o un 10, quindi vedremo ragazzi, speriamo, speriamo, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, io come sempre vi ringrazio, vi saluto, mi raccomando iscrivetevi al canale, ci vediamo domani, come sempre, ore 16, andremo a parlare un po' di alcuni indizi, che ho visto, ascoltato, in questi giorni, in giro, che hanno a che fare ovviamente con Pokémon, che mi fanno pensare, che secondo me, a breve, nei prossimi mesi, avremo un nuovo picco del mercato, ma ne parleremo domani, ragazzi, grazie mille, come sempre è stato un piacere, io vi saluto, domani, ore 16, ciao, ciao, e alla prossima!